È stato un anno estremamente positivo per l'economia piacentina, per le industrie associate a Confindustria Piacenza. Ci aspettavamo un secondo semestre in rallentamento rispetto al primo dell'anno scorso. In realtà le nostre aziende hanno tenuto, hanno tenuto bene e in particolare ci sono delle buone possibilità anche per quello che riguarda il 2024. Il presidente di Confindustria Piacenza ha tratteggiato lo stato di salute dell'economia piacentina sulla base dei risultati emersi dall'indagine congiunturale sull'andamento dell'industria del nostro territorio nel secondo semestre 2023 e sulle previsioni per il primo semestre dell'anno in corso. In particolare il fatturato per l'intero comparto manifatturiero è cresciuto del 5,96% trainato dalle vendite all'estero più 11,90% che registra numeri nettamente migliori rispetto a quelli relativi al fatturato interno più 3,23%. L'occupazione conferma il trend degli ultimi due anni registrando un ulteriore incremento del 2,83%. Analizzando invece i fattori di criticità e ostacolo alla realizzazione degli investimenti, tra gli elementi più impattanti si conferma la difficoltà di reperimento di risorse umane. Più della metà degli imprenditori, si parla del 53%, conferma la presenza di criticità nel reperimento di personale già evidenziata nell'ultimo anno da diverse fonti. Gli altri due fattori negativi, denunciati da circa un terzo degli imprenditori, sono i costi delle materie prime ed energia e i tassi di interesse elevati.